L'ispano è un galgo quello duro, è di temperamento molto tranquillo, i volontari ci hanno detto che è passato tantissimo tempo sdraiato, a prendere il sole, rilassato, quando siamo entrati ci è venuto vicino ma è stato piuttosto riservato, però poi si è fatto mettere tranquillamente il collare, siamo usciti in passeggiate tranquillo, è molto sereno. tranquillo, sereno, pacato, molto dolce, con i gatti è sembrato non interessato, è un galgo che mi piace moltissimo, fa veramente tanta tenerezza.